I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like this. 22 aziende coinvolte e oltre 2 milioni di investimento, ma stiamo parlando di una grande strategia che riguarda il mondo del legno e una certificazione fondamentale portata avanti dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Sì, questo piano integrato di filiera, il PIF, siamo arrivati primi in Toscana, è un progetto importante che prende le mosse ormai da diversi anni fa e voglio ricordare il contributo importantissimo alla nascita di questo percorso dell'allora direttore generale Paolo Grifagni e del nostro compianto Alfredo Bresciani, che sono stati un po' motore di questo percorso, che oggi vede impegnato l'ente come capofila, ma vede anche l'apporto fondamentale delle altre due unioni dei comuni della provincia di Arezzo, che sono quella della Valtiberina e quella del Prato Magno, e la presenza di tante aziende, oltre 22 aziende, che si sono messe insieme e hanno dato inizio a un percorso di valorizzazione della filiera del legno, che nei nostri territori, in Casentino, ma anche come dicevo, per quello che riguarda il Prato Magno e la Valtiberina, è un elemento dell'economia fondamentale della nostra tradizione e anche di un'economia che guarda al futuro, perché parliamo di legna d'ardene, ma anche di legname d'opera e di tante iniziative anche volte alla gestione consapevole del bosco, alla manutenzione, perché poi questo bosco va davanti negli anni e continua a dare quello che ha dato fino ad oggi. Il bosco non può essere usato soltanto per escurcionismo e quindi non si arrivi anche all'abbandono, allo spopolamento di questi nostri luoghi. Io penso che il nostro ente rappresenti l'equilibrio tra questi due elementi. Qui voi siete nella falegnameria, vedete tanti oggetti che vengono realizzati dai nostri dipendenti, sono realizzati con il legname, sono realizzati per la fruizione turistica, ma non ci dimentichiamo che l'ente gestisce anche tutto quello che riguarda i piani di gestione, le concessioni di taglio per il nostro territorio e quindi credo che qui si sostanzi davvero l'equilibrio tra questi due elementi che tu citavi, la fruizione turistica e la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, ma anche l'utilizzo da un punto di vista economico della risorsa del bosco che per i nostri territori è fondamentale. Quando il progetto PIF è partito, è stato ideato, che poi abbiamo sottoscritto l'accordo di filiera, neanche noi ci rendevamo conto quanto questo progetto fosse in realtà ambizioso. Ce ne siamo accorti soltanto lungo il percorso. In effetti c'era un'iniziale diffidenza da parte dei partecipanti, soprattutto delle ditte private, anche per la tipicità della filiera forestale rispetto a altre filiere dell'agricoltura. Queste diffidenze sono state superate grazie soprattutto alla tenacia e alla competenza dei tecnici del servizio, di tutto il personale del servizio e si sono riusciti a tenere tutte le ditte insieme. Per questo infatti c'è qui Alberto che ha collaborato in modo particolare e con grande impegno a questo progetto. L'obiettivo principale ad oggi era quello di riuscire almeno a rendicontare, cosa vuol dire? portare a complimento la realizzazione per quanto riguarda i due terzi degli investimenti programmati. Siamo andati ben oltre perché abbiamo raggiunto non soltanto i due terzi ma ben il 76% degli investimenti programmati, le domande sono state presentate. La filiera però ancora non è conclusa perché la filiera come impegno che ci siamo fissati è quella di durare almeno cinque anni dal 2019, quindi arriveremo fino a maggio 2024. Sono due filiere, la filiera del legname da opera e la filiera della legna d'ardere. Questo deve essere soltanto l'inizio della filiera perché soprattutto per quanto riguarda anche la legna d'ardere, visti anche i prezzi del carburante, metano, gas degli ultimi mesi è sempre più importante. L'obiettivo però è quello di lavorare con una pianificazione forestale con una silvicoltura definita sostenibile nella sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli investimenti sono stati programmati soprattutto nell'adeguamento del corpo marchine aziendali con lo scopo di una maggior sicurezza e di minore emissioni. Quindi il bosco che rappresenta moltiplici funzionalità, quella ricreativa, quella produttiva ma non solo. Quindi il nostro scopo è anche quello di fare di mezzo per portare a conoscenza le varie aziende dell'importanza che ha oggi il bosco, non soltanto ma produttivo ma anche gli altri. Le tre unioni hanno potuto fare e realizzare tre piani forestali, quindi sono stati per la loro gestione del patrimonio agricolo forestale, quindi sia dell'unione del Val d'Arno che quella del Casentino che quella della Valtiberina. Le aziende hanno fatto investimenti per quanto riguarda le utilizzazioni forestali, quindi per macchinari da bosco, ma anche qui accanto abbiamo una segheria molto importante e investimenti anche per quanto riguarda la trasformazione del legname d'opera. Non infine la creazione di un consorzio forestale della legna d'ardere, l'ottenimento della certificazione forestale del complesso delle foreste casentinesi, quindi dei boschi delle foreste casentinesi e sono state fatte anche l'attivazione della misura 1-2, quindi della formazione e portare la conoscenza delle varie due diligence e altre normative del settore. Cosa significa vendere del legname che ha avuto una filiera completa? Logicamente dovrebbe avere un valore aggiunto sulla vendita, perché quel valore dovrebbe andare a aumentare. Spesso non è così, però come dico sempre io, bisogna iniziare da qualche parte per poter arrivare in fondo a questo processo. Pensando questo significa anche per la legna d'ardere, che ci può essere anche una trasformazione poi futura, naturalmente guardando al domani, giusto? Sì, sì, anche per quanto riguarda la legna d'ardere, logicamente la creazione del consorzio è avvenuta in un secondo momento e siamo all'inizio. Quindi proprio questa mattina parlavamo di voler o non voler proseguire, la filiera dovrebbe proseguire. Noi l'impegno che abbiamo preso e il piano integratore di filiera, che non altro che un bando regionale, il piano di sviluppo regionale, aveva un obbligo a almeno tre anni di filiera e noi già ci siamo spinti ai cinque anni. Con la legna d'ardere secondo me dovremmo andare oltre i cinque anni, perché abbiamo le potenzialità per farlo, rispettando sempre una silvicoltura sostenibile. Questo è il concetto che voglio ripetere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.